Ciao amici, che puntata di fuoco quella di uomini e donne con Ida Platano al centro dell'attenzione. Vi racconto cosa è successo nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. La tronista è stata protagonista di un botta e risposta con l'opinionista Tina Cipollari. Durante la trasmissione, Ida è stata messa alla berlina a causa di una segnalazione sul suo corteggiatore Mario. Pare che sia stato visto in compagnia di un'altra ragazza in un BB, scatenando una serie di eventi in studio. Tina ha attaccato Ida senza mezzi termini, sospettando un tradimento da parte del ragazzo. Mario ha cercato di difendersi, ma la tensione è salita alle stelle. Tina ha accusato Ida di non avere dignità e di essere caduta in una trappola. La situazione è diventata sempre più incandescente, con Ida che potrebbe essere vicina a lasciare il programma senza fare una scelta. La discussione è stata accesa e piena di colpi di scena, con emozioni forti e rivelazioni inaspettate. Non ci resta che aspettare per scoprire come andrà a finire questa storia al cardiopalma. Stay tuned!